In questi giorni veramente ce ne sono molti di abbandoni di materassi. Solo in tre giorni ne ho trovati una trentina ed ho chiesto di tutti la rimozione, come degli altri rifiuti abbandonati. Dai materassi ai letti per neonati, dalle lavatrici alle sedie, nonostante la raccolta chiamata di rifiuti ingombranti esista e funzioni, nel territorio aretino continuiamo ad assistere ad abbandoni. Qui ci troviamo nella strada che collega Salleo a Ponte Acchiani, immediata periferia di Arezzo. Due bidoni recentemente installati dell'indifferenziato non hanno scoraggiato gli abbandoni e se poi ci inoltriamo nella fitta vegetazione scopriamo elettrodomestici che ormai fanno parte del paesaggio. E' Mary Cornachini, consigliere comunale di Oraghinelli ad essere diventata nel tempo punto di riferimento per la lotta a questo tipo di degrado sociale ed ambientale. Sue le segnalazioni che hanno permesso tante rimozioni, adesso arriva la proposta, un centro raccolta soprattutto per mobili che possano essere ancora utilizzati. In alcune città esistono pagine Facebook che si chiamano Te lo regalo io, se te lo vieni a prendere. Lo vorrei portare all'amministrazione comunale, parlarne con l'assessore, con la giunta e valutare quali sono le opportunità per poterlo portare avanti. L'importante è che si raggiunga qualcosa di concreto e che si eviti questo continuo abbandono perché sono abbandoni che hanno anche dei costi di rimozione.